gg ragazzi bentornati sul canale di the game show oggi è una bruttissima notizia da dare che non so effettivamente neanche da che parte iniziare perché è una roba incredibile è una roba incredibile è veramente difficile aprire un discorso del genere per quanto comunque io sia incredulo alla questione adesso non so se è potuto accadere così senza che neanche me ne accorgessi o cosa però raga è questa volta questa volta è finita veramente questa volta è finita raga veramente ho dovuto anche dire addio la parentesi anche se comunque è così perché raga è devo trovare il momento giusto per dire una roba del genere perché non mi era mai successa effettivamente e quando faccio dei video del genere è perché sono momenti veramente importanti c'è che bisogna capire determinate cose e devo dire che mi sono spaventato veramente raga mi sono veramente spaventato per quello ho voluto fare questo video però purtroppo a volte bisogna mandare giù le cose fare finta di niente provare ad andare avanti anche se in questo caso è veramente impossibile andare avanti perché una cosa adesso adesso ve lo dico scrivetemelo nei commenti anche voi ci aiutatemi a capire perché come cazzo sia possibile ragazzi come cazzo perché bisogna devo dire addio a questa cosa perché come cazzo è possibile raga veramente che in cinque giorni no c'è finita finita completamente come cazzo hanno fatto in quattro cinque giorni a finirsi non dico una cazzata raga guardatelo voi 900 c'è scritto qua 950 grammi di nutella ho dovuto dirgli addio ed è irrecuperabile raga è irrecuperabile cioè basta io quando la compro un'altra roba del genere e neanche l'ho assaggiata cioè io 950 grammi di nutella polverizzata me l'hanno polverizzata in quattro giorni è una cosa che non sta né in cielo né in terra e non possono anche ricomprarla perché se se ne mangiano altri 950 grammi cazzo questo gli piglia qualcosa allora io mi devo sacrificare devo dire addio dico addio alla nutella dico grazie a tutti quelli che se la sono fregata e neanche c'è nonostante io abbia speso dei soldi neanche l'ho assaggiata dico grazie grazie e non mi resta che dire addio a questa cosa qui nutella addio addio alla prossima incredibile incredibile